Rosa Perrotta e Pietro Tertaglione si apprestano a un 2019 importante, che ha tutte le caratteristiche per essere un anno da favola. La loro relazione va a gonfie e vele le voci di una possibile crisi, suffragata dalle voci sulla fine della loro convivenza, è stata smentita dall'annuncio di qualche settimana fa in televisione, quando i due hanno in realtà rivelato di essere in dolce attesa, da quasi tre mesi. Ma oltre al nuovo arrivo, la coppia si prepara al grande sì, che probabilmente celebreranno prima della nascita. Un matrimonio annunciato da tempo, che si concretizzerà precisamente il 7 giugno 2019. Lo fa sapere implicitamente la stessa Rosa Perrotta, che posta sul suo account Instagram un video in cui prova diversi abiti da sposa, disegnati appositamente per lei. E lei accompagna la pubblicazione del video con una didascalia che dice tutto dell'anno che si trova davanti. Questo sarà un anno pieno di emozioni. Io non so se reggo. Tutto pazzesco, tutto all'improvviso. Ma si sa, la vita, quella vera, quella autentica, e così. All'improvviso. Che l'amore e la verità, semino la traiettoria del vostro cammino, sempre. Prove tecniche. Rosa Perrotta e Pietro Tertaglione hanno scelto il salotto televisivo di Domenica Live e la benedizione di Barbara D'Urso per annunciare la lieta novella. Lo abbiamo scoperto in una maniera un po' strana. Ha raccontato Rosa Perrotta alla conduttrice. Io venivo da un periodo in cui non stavo tanto bene, però eravamo abbastanza tranquilli. Poi una sera mi rendo conto che il suo profumo, quello che ho sempre adorato, mi provoca un enorme fastidio, quasi nausea. Quindi gli dico subito di andare a prendere un test di gravidanza, ma solo per eccesso di zelo. Chi se ne frega.